Ciao Ciao Fai massaggi? Si, prego Quanto costa? Un'ora e cinquanta, mi sono a trenta Ma che massaggi sono? Massaggio romantico, piano piano Massaggio tutto, tutto Mascherina senza Si, mascherina Posso andare a prendere soldi in macchina? La vengono tra due minuti Due minuti, io aspetta Ciao Hai visto ragazzi? Eh? Altra massaggiatrice, due minuti, io aspetta Capito? Veloce veloce Eh si è così caro biffoni Caro biffoni Cerca di riaprire il Centro massaggi del mio figliolo E chiudi questi scempi Questi sono scempi assoluti Sono solo scempi questi qui caro biffoni Ora li Apro la bici Potrei andare a cercarlo un altro Ma non c'ho voglia Ora torna a casa riposando E' una vergogna E' una vergogna E' una vergogna E' una aprenda E' una vergogna E' una logica